Buongiorno a tutti carissimi amici, siamo in questa bellissima spiaggia che vi abbiamo portato al mare. Voi sapete che io sono romagnola e quindi non vedo l'ora di passare ogni piccolo secondo libero in spiaggia. Ma sono qui, in questa spiaggia vuota, proprio a sottolineare che dal niente si può creare tutto. E sono qui con una splendida persona che si chiama Deborah Donati, dell'associazione Insieme a Te. Ciao Deborah. Buongiorno a tutti. Allora, siamo qui perché qui d'estate succedono grandi cose. Cosa accade Deborah qui? Beh, adesso vedere così la spiaggia vuota e immaginarmi tra quattro mesi quello che succederà qua dentro, sì, è un'emozione grande perché effettivamente qui da metà giugno anche di quest'anno ripartirà la nuova stagione per il terzo anno e di nuovo questa spiaggia accessibile al 100% con tanti nuovi ospiti e anche ospiti di anno scorso. Allora, l'associazione Insieme a Te nasce per uno scopo ben preciso, bellissimo, è la seconda in Italia, ce n'è un'altra? Terza, chi ha fondato questo progetto è Io Posso che nasce quindi da Gaetano e sua moglie Giorgia in Puglia, nel Salento e poi c'è in Sardegna invece che è l'associazione Le Rondini. Hanno aperto un mese prima di noi e agosto invece siamo arrivati noi sempre nel 2018. Beh, intanto il numero 3 mi ha sempre portato fortuna quindi è bellissimo lo stesso e poi comunque qui non si tratta di competizione ma si tratta appunto di fare davvero tanto bene. Sì, assolutamente. Di che cosa si occupa l'associazione Insieme a Te? Insieme a Te si occupa prevalentemente quindi di, diciamo la spiaggia è il progetto più grande durante l'estate che accoglie comunque tutti i tipi di disabilità e per tutti i tipi di disabilità intendo anche quindi disabilità gravissime come può essere una SLA, come può essere una SMA, quindi persone anche trachetomizzate, persone che tutto l'anno avrebbero difficoltà comunque a uscire di casa e quindi qui riesco comunque a fare una vacanza io dico sempre normale perché è un po' diciamo la normalità è un po' quello che manca in casa di tutte queste situazioni. Vi ho presentato Debora che sarà con noi un po' in ogni puntata proprio perché quest'anno come sapete benissimo parte l'undicesima edizione di Enerjoy il ballo che unisce cioè questo contest dedicato a tutti quelli che amano la musica ed il ballo. Siete una scuola di ballo, siete un gruppo di amici, siete un'associazione che ama ballare, basta che realizziate un vostro ballo, dovete proprio crearlo voi, facilissimo per farci ballare tutti su una musica che prediligete. E ovviamente il vostro ballo andrà sulla nostra trasmissione prossima fermata l'iscio o country live e verrà postato sul sito di Radio Bruno nostro partner storico. Ma quest'anno nasce questo meraviglioso progetto ecco perché sono qui con Debora che si chiama Io ballo per te. Nel senso che il ricavato di questa bellissima manifestazione quest'anno saremo felicissimi di donarlo insieme a te per aiutare nel nostro piccolo ballando tutti insieme questa grande idea. Grazie, per noi questo è, i traguardi più grandi sono questi per noi. Allora Debora sarà qui con noi, grazie per averci dedicato un po' del tuo tempo ma la rivedrete nella prossima puntata. Grazie.